Il martedì come di consuetudine ci troviamo con Maurizio il quale ci parla del cosiddetto calcio minore che poi alla fine minore non è. Che spedizione hai fatto ieri l'altro Maurizio? Devo dire la verità? Sei stato a casa? Sono stato a casa. Ma su cosa ti sei informato? Però mi sono concentrato, mi sono informato su alcune partite e devo dire che in prima categoria i risultati più importanti sono stati il 4-0 del Tirontola che avevo visto la domenica prima a Prato Vecchio mi ha fatto una bella impressione, ne abbiamo parlato anche l'altra settimana ha vinto 4-0 con l'Ambra che era quarta in classifica quindi da ultima è riuscito a raggiungere l'Alberone Rostia sempre in tre in competizione l'ultimo posto però ha vinto 4-0 e ha dimostrato i progressi che si erano visti nell'ultima settimana soprattutto con Marmorini che è andato ancora una volta a segno con Benocci che è un giocatore sicuramente di alte categorie, giocava ripeto due anni fa anzi hanno passato a segnalunga in eccellenza quindi insomma il Tirontola che si è rafforzata in questa campagna acquisti invernale secondo me potrebbe riuscire a salvarsi direttamente anche se è un campionato di un equilibrio incredibile addirittura tutte le squadre escluso le prime due sono racchiuse in 10 punti quindi diciamo fra la zona playoff e la zona playout c'è veramente molto molto poco l'altro risultato veramente questo eclatante è la vittoria per 5-0 fuori casa del Marciano sulla corazzata Foiano, il Foiano era una delle candidate alla vittoria finale ormai con questa sconfitta e anche con un punto di penalizzazione combinato perché l'anno passato la squadra è scesa in campo l'ultima giornata al Beroro con la squadra Juniors e quindi hanno penalizzato quest'anno di un punto per quella faccenda e quindi ormai il Foiano si trova invischiato nel centro classifica sicuramente lotterà fino all'ultimo per i playoff ma per la vittoria finale a 12 punti sta con la Pradovecchio quindi è molto difficile la domanda che ti voglio fare è questa ieri con Stefano Brandini parlando a proposito dell'Arezzo venne fuori il discorso dei non playoff per l'Arezzo e come mai ci sono i playoff dappertutto poi per l'Arezzo non ci sono questo che non riesco a fare ci sono troppi gironi? si vorrei dare una riscorsa certa e sinceramente vado un po' a ragionamento a logica a logica è perché le promozioni sono limitate e quindi chiaramente passa soltanto la prima e eventualmente forse vengono ripescate le seconde che hanno dei metri sportivi poi i metri sportivi sono fatti in base anche al blasone alle squalifiche, a tante cose, ai giovani ci sono varie misure per valutare questa possibilità di passare però ecco poi anche un campionato che dura 34 giornate arrivare poi a giugno e fare i playoff poi fare chiaramente anche i spareggi sinceramente e non avergli anche la certezza di passare nel campionato superiore e quindi hanno fatto questa scelta in tutti gli altri campionati ci sono playoff e playout è l'unico dove non c'è l'etrocessione diretta ma questo per un fatto estacalcistico è l'eccellenza perché in Montevarchi l'etrocesso è fallito e quindi in eccellenza ci saranno soltanto i playout e l'ultima squadra, la Quartuti, la Tessuti e la Penuti faranno i playout se mi posso agganciare a questo discorso ormai che siamo in eccellenza diciamo che la situazione è piuttosto complicata per il Sochi che anche Domega ha perso 3 a 0 quindi penultimo in classifica con 15 punti soltanto un punto sul Gracciano ultimo mentre sta cercando di riuscire fuori il Zubbiano che ha vinto ancora in casa con il San Donato dopo aver vinto la Domega passata il Derby a Sochi è un campionato di questo molto equilibrato in coda anche se le quattro squadre, diciamo, quart'ultime sono un po' distaccate anche in virtù del fatto che la Seronghese che ha fatto da faralino di coda per tutto il campionato d'andata ha iniziato a vincere e ha vinto anche Domega in casa 2-1 Maurizio Polverini che come commentatore sportivo ha una macchinetta immaginate quando fa l'avvocato una ringa di 7 ore e distrugge il pubblico ministero dopo qui va in tribunale sì, mi scaldo però penso che forse più che di parlare tanto l'importanza è di parlare bene perché se uno parla tanto anche di calcio sì, di calcio perché se uno parla tanto il giudice alla fine si annoia quindi l'importante è parlare abbastanza parli pareggio con me e poco con lui e con il giudice poco ovviamente, alla prossima alla prossima grazie a tutti